Gli studenti dell'indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo presso la scuola Nicholas Green di Corigliano Rossano stanno realizzando un cortometraggio in collaborazione con il centro antiviolenza locale Fabiana Luzzi dell'associazione Mondiversi, intitolato Libera. Il cortometraggio sarà presentato il 25 novembre prossimo in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne. L'idea quindi è quella di coinvolgere fattivamente nella realizzazione, nella produzione e nella post-produzione di un prodotto audiovisivo, cercando di mettere noi professori a disposizione il nostro bagaglio di esperienza professionale. Questa esperienza si è stata utile a loro per avvicinarsi un po' di più e sensibilizzarsi un po' di più nei confronti di questa tematica. Le riprese coinvolgono nove studenti, impegnati non solo come attori ma anche nel supporto tecnico e scenografico, i luoghi scelti per le riprese includono la sede del centro antiviolenza, il parco periurbano comunale di Corigliano ed un noto pub locale. Mettendomi nei panni di questa ragazza sono riuscita a mettermi di più dentro il personaggio. Mando un messaggio per le ragazze che bisogna molto stare attenti, specialmente su questa generazione che c'è adesso. Secondo me è proprio il caso di denunciare, credetemi, perché soffrire per nulla, autolesionarsi per una persona che comunque vi sta sotto, vi pressa, non è una buona causa. Il cortometraggio si propone come uno strumento per promuovere la consapevolezza sulla violenza di genere e stimolare il dialogo su misure preventive. Grande il supporto del professor Giulio Angora, non nuovo nel settore della filmografia e regista del film Heaven, girato tra Rasile e la città di Cosenza in uscita nel 2024, mentre la voce narrante del cortometraggio è dell'attrice Martina Chiappetta.